Oggi è un giorno importante per la regione Macchie. Da qualche minuto abbiamo completato la presentazione del piano per la messa in sicurezza della Valle del Miesa, del Nevola, del Cesano e del Burano e del Comprensorio del Catria. Quel territorio che era stato fortemente danneggiato dalle calamità che si sono verificate il 15 settembre 2022. Momenti drammatici che non scorderemo mai e che ci hanno spinto grazie al contributo del Governo nazionale che ha stanziato 400 milioni di euro e che ci ha consentito di fronteggiare prima la sommorgenza e i ristori. In questi giorni partirà anche la seconda fase dei ristori. Dopo i 5-20 mila euro per le famiglie e le imprese arriveremo a derogare i ristori per chi ha subito danni maggiori. Ora stiamo attivandoci per la realizzazione delle nuove infrastrutture, quelle danneggiate, e anche delle infrastrutture che consentiranno la mitigazione del rischio. Questo piano è stato studiato dalla Fondazione Cima con la collaborazione dell'Università di Camerino, dell'Università di Firenze, dell'Università di Ancona, dell'Autorità di Bacino e della struttura commissariale. Tendo a ringraziare anche la struttura regionale, la protezione civile regionale e nazionale per il contributo determinato che ci è stato dato. Si tratta di un unicum in Italia, di un piano che per la sua valenza, per la sua importanza, ma anche per la sua capacità e possibilità di essere realizzato, potrà cambiare il destino di territori che hanno convissuto per troppo tempo con la paura degli effetti delle sondazioni dei fiumi e che soprattutto potranno progettare e programmare la loro quotidianità con maggiore sicurezza e maggiore tranquillità. Si tratta di mitigazione del rischio, il rischio non sarà mai rischio zero, ma con queste infrastrutture che verranno realizzate noi potremo garantire assolutamente maggiore sicurezza. 130 milioni di euro, di cui come dicevo 113 garantiti dal governo Menoni per il tramite degli stanziamenti effettuati nell'immediatezza degli eventi calamitosi e 17 per il contributo del Ministero dell'Ambiente. Un'opera importante, ora abbiamo l'indicazione di massima su come poter operare, partiremo nelle prossime settimane con la progettazione e contiamo che entro pochi mesi tutte queste indicazioni si trasformeranno in cantieri. Grazie a tutti.